Luca Ceriscioli, presidente della regione Marche. Presidente, oggi nella sua regione è festa, intanto perché c'è un potenziamento delle linee ferroviarie e in una regione che è piena di porti le ferrovie fanno comodo. La cura del ferro di Del Rio? Sì, un progetto importante è quello di velocizzare la linea adriatica, togliendo curve che impediscono ai treni di muoversi a una certa velocità. Questo è un piccolo tratto, ma significativo, io lo percorro spesso venendo in Ancona, i treni qui rallentano oggi a 30-40 km all'ora, sembra quasi una contraddizione arrivando nella parte finale, e quindi un intervento che riqualifica il lungomare nord della città di Ancona, crea spazi migliori per la viabilità, rettifica il percorso del treno, quindi mi aspetto da qui a qualche anno di poter arrivare in stazione a 100 km all'ora anziché alla velocità che si fa oggi. Però sappiamo che un tassello di un progetto più grande è che togliendo minuti su minuti, tratta dopo tratta, sull'intero percorso litoraneo, darà una maggiore competitività sia al trasporto a mezzi sia al trasporto a passeggeri. Noi speriamo che in questo trasporto arrivino anche tanti turisti delle Marche, come è avvenuto nell'ultimo anno. Lei dove le manda i turisti, Presidente, quando sbarcano a Ancona? Beh, i turisti... Ho accompagnato una coppia di amici svizzeri in Ancona, gli ho fatto fare tutto il percorso dal porto fino al passetto, è stato un percorso affascinante perché hanno ritrovato il mare quando non si aspettavano più di ritrovarlo. Uno si spinge dal porto ortogonalmente verso l'interno e poi di nuovo scopre il mare, quasi fossimo su un'isola, questo gomito particolare che è la città di Ancona. Quindi un percorso fatto di monumenti ottocenteschi, di spazi, di shopping, tutte cose che piacciono in un'ambientazione veramente straordinaria. Ma da qui, poi, nelle Marche è possibile scoprire tutta la bellezza di una regione poco conosciuta ma veramente scrigno di tanti tesori artistici, paesaggistici, enogastronomici e la qualità della vita che noi marchigiani vorremmo condividere con gli altri. Presidente, Presidente, voi avete molto a cuore la finca antieri, ve la tenete stretta? La teniamo stretta e vogliamo farla crescere perché si è dimostrata una impresa dagli enormi potenziali, grande capacità produttiva, molto competitiva e con costanti progetti di investimento e ampliamento della proprietà. Non vogliamo più possibile assecondare la crescita di questa azienda perché ha significato oggi tanta occupazione che può ulteriormente crescere su numeri importanti. Chiudiamo, Presidente, ma abbiamo pazienza perché se no si parla solo di Ancona. Lei deve guardare con buono occhio anche San Benedetto del Tronto, Pescari e Ortona, perché se no... San Benedetto, grazie all'ingresso in questa autorità portuale del Medio Adriatico, ha ottenuto nei tempi rapidissimi per la competenza e per la qualità un dragaggio che aspettava da 15 anni. Quindi stare in un contesto di una più alta professionalità, di una visione di maggior qualità e quindi in grado di reggere il confronto con le esigenze della portualità più immediato e più coerente, ha subito dato risposte. Quindi si è visto immediatamente qualcosa di positivo. Penso il messaggio più forte, noi abbiamo creduto molto in questo progetto, il Ministro del Rio ha fatto una scelta strategica, erano tantissimi anni che si parlava di riordino alla portualità nella penisola italiana che ha tante potenzialità sul mare e ne sfrutta pochissime. Questa riforma secondo me è centrata, è ben indovinata, mette una grande risorsa e competenza al servizio di una strategia più ampia.